Bene, e questo mese vedremo un tema molto interessante, parleremo della profezia soni e visioni. Interessante che quando Gesù Cristo fa la prima predica, lui dice lo spirito su di me, Luca 4, 18, ispirato ai 6 a 61, dice lo spirito su di me parla di se stesso, di se stesso, su di me e mi aunto per predicare le buone notizie, la salvezza, guarire i cuori spezzati, guarigione dell'anima, liberare gli oppressi, liberazione e aprire gli occhi ai ciechi o la carcere ai prigionieri, guarigione fisica, notare l'ordine di Dio, di un Dio di ordine, ma la prima predica dopo la Pentecoste, quando lo Spirito Santo scende e Pietro si inalza, lui comincia per mezzo dello Spirito Santo a spiegare attraverso la parola di Dio che cosa stava succedendo nel mondo fisico, che la gente naturale non comprendeva e questo è molto importante. e negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà e molti dicono, ai signori vogliamo, vogliamo, visitaci, visitaci. Questa è una frase che ho sentito tante volte in Latino America e vediamo se l'avete capita voi. Quanti vogliono una visitazione dello Spirito Santo? Alza la mano. Bene, se tu vuoi una visitazione dello Spirito Santo, scusami ma ti manca conoscenza, era una domanda trucchetto, perché lo Spirito abita, è come dire a tua moglie, quando viene a visitarmi amore? E tua moglie prenderà una padella e te la dà in testa e c'è un ignorante, io abito con te, che visita che cosa? La suocera viene a visitarti e adesso ti porto la suocera, così ti passa. Ma lo Spirito non ti visita, abita, il problema è che noi non sappiamo riempirci dello Spirito Santo e queste preghiere, signore aspettiamo una visitazione e se ci riempiamo tutti dello Spirito Santo avremo, vivremo delle manifestazioni, manda risveglio questa domanda, manda risveglio. Gesù Cristo, Paolo gli dice a Timotio, risveglia, risveglia quello Spirito che è dentro di te, il dono che è dentro di te. Chiede un risveglio e dissociarti da quello che Dio vuole fare attraverso di te. Dio vuole fare attraverso di te, per quello quando si alza Pietro con la conoscenza e già aveva la parola dentro, lo Spirito Santo prende la parola che già aveva Pietro dentro e dice questi non sono ubriachi ma questo è quello che ha detto il profeta Gioele negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito sopra ogni carne ricordate che Gesù Cristo ha detto lo spirito è su di me ma poi su di me deve essere sparso, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e qui non parla di quello che faccio io, lo spirito su di me e mi ha unto per eccetera eccetera sino che dice quello che la Chiesa farà, i miei figli e i miei figli profetizzeranno e i giovani avranno visioni e gli anziani i sogni e gli anziani non sono i vecchi i vecchi, hello? Il termine in ebraico è presbiteros, ossia i maturi i maturi e nelle Chiese, quelli che gestivano le Chiese non erano i cinque Ministeri sino gli anziani, gli anziani gestivano le Chiese e gli anziani hanno dei sogni e perché per interpretare i sogni hai bisogno della conoscenza della parola di Dio questo è molto importante e Paolo andava e non istituì a cinque Ministeri nella Chiesa come si fa oggi istituì a chi? Gli anziani perché tu puoi avere un Ministero senza essere un anziano, senza essere maturo Gesù chiama i dodici e li chiama apostoli è un Ministero l'Apostolo ma erano anziani? No, non erano ancora anziani perché quelli che erano apostolo uno lo tradì, altro lo negò tre volte altro voleva che scendesse fuoco dal cielo e uccidesse tutti i samaritani uno di questi apostoli non ci credeva neanche per quello non sono i cinque Ministeri che devono gestire la Chiesa sono gli anziani e non perché tu hai un Ministero vuol dire che tu sei anziano questo è importante ma la Bibbia dice chiaramente che i miei figli e le mie figlie profetizzeranno noi parleremo oggi della profezia vediamo se riusciamo a toccare un po' la visione e la prossima lezione vedremo i sogni approfondiremo tutta la lezione sui sogni quando vengono i sogni, come interpretarli, eccetera ma tornando a noi andiamo alla parola di Dio quanti sono sono contenti di essere qui? ok mi notate più frizzante quando sono in Italia? non è più bello? se non mi sento più più festa come il figlio del prodigo che torna a casa allora atti capitolo 10 versetto 27 no anzi anzi scusate 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 prima Timotio prima Timotio andiamo andiamo prima Timotio prima Timotio l'importanza della profezia ti affido questo incarico o figlio Timotio e anche lo Spirito Santo ti affida questo incarico a te in accordo con le profezie in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo analizza bene questo concetto con le profezie fatte a tuo riguardo perché tu conduca in virtù di esse il buon combattimento il buon combattimento il buon combattimento della fede ora per combattere il buon combattimento della fede ho bisogno di capire quelle profezie che sono state fatte a mio riguardo ah ma io non ho ricevuto nessuna profezia beh io ho una buona notizia che cosa è una profezia una profezia è una manifestazione dello Spirito Santo attraverso una persona che ti dice a te quello che è lo stesso Spirito Santo che ha parlato per mezzo di quella persona ha depositato nel tuo cuore ripeto ripeto una profezia che cosa è è lo stesso Spirito Santo che abita in te attraverso un'altra persona una manifestazione dello Spirito Santo attraverso un fratello o un profeta o un ministro perché tutti possiamo profetizzare e lo vedremo oggi quella persona attraverso lo Spirito Santo ti dà una parola che tu sai che viene da Dio perché lo stesso Spirito Santo che ha parlato per mezzo di te di quella persona abita in te come so se quella profezia viene da Dio hai pace nel cuore quando la profezia non viene da Dio è come se tu apri la finestra e ti trovi un ippopotamo nel giardino di casa tua più o meno la sensazione è quella cioè non c'entra niente quando la profezia viene da Dio dal momento che chi sta parlando se è lo Spirito Santo che sta parlando lo stesso Spirito Santo che ho dentro di me è semplicemente una conferma di qualcosa che già Dio ha messo nel tuo cuore una profezia è una conferma di qualcosa che Dio ha messo nel tuo cuore allora è vero che la Bibbia dice molti sono i progetti nel cuore dell'uomo ma quello che rimane è quello che viene da Dio cioè quel chiodo fisso è con quello che viene da Dio e che a volte ti deve essere confirmato per mezzo di una profezia perché molti sono i progetti i piani nel cuore dell'uomo dell'altro lato dice molti sono i piani i progetti nel cuore dell'uomo ma l'uomo saggio e l'uomo intelligente sa come attingerlo chi è l'uomo intelligente quello che ha rivelazione perché? perché Salmo 119 non mi ricordo quanto dice la rivelazione delle tue parole 160 versetto 160 se non mi sbaglio la rivelazione delle tue parole illumina rende intelligente i semplici per quello è quella intelligenza che viene per mezzo della rivelazione che ti permette di portare alla luce quei progetti di Dio e una volta che tu hai chiaro sia per mezzo di profezia o sia perché Dio ti le ha fatti vedere per mezzo di una visione o una rivelazione riguardo a quella visione tu devi lottare perché a volte ci troviamo come Marta a fare cose che Dio non ci ha mai chiesto e per quello molti non raggiungono gli obiettivi hello bellissima rivelazione che il sereo mi ha fatto vedere dove dice mio è l'oro mio è l'oro e l'argento dice il signore dell'eserciti interessante che quando parla dell'oro e dell'argento si presenta come il signore dell'eserciti perché io mi sono chiesto perché ti presenti come il signore dell'eserciti quando parla di quello che è della tua proprietà è l'oro e l'argento e lo Spirito Santo mi ha portato a prima Corinthians 9 se non mi sbaglio dove dici chi è il soldato che va a combattere a proprie spese chi è il soldato che va a combattere a proprie spese cioè che cosa ti sta dicendo Dio ok se tu sei parte del mio esercito tu non devi mettere la tasca tua perché se tu vuoi combattere per me sono io che ti devo mantenere e io sono il padrone dell'oro e dell'argento dice il signore dell'eserciti per quello quando il tuo capitano il tuo generale il padrone dell'oro e dell'argento tu ti devi rilassare ma qual è il problema che spesso ci troviamo a combattere come ci dicono le altri o come noi pensiamo e non come dice il capitano e il generale per quello non puoi soffrire di quell'oro e dell'argento perché se io vado a combattere devo combattere secondo le ordini che ricevo di sopra hello e non per caso perché dice dice al centurione e il centurione dice no 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 venire a casa mia di soltanto la parola perché io sono uno sotto 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 autorità e mi dicono vieni e io vado e io dico vai e lui va e ascoltando questo dice non ho trovato una fede così grande come questa a chi a quello che era centurione un soldato perché perché quella è l'attitudine che noi dobbiamo avere quando combattiamo per il signore uh che bella questa mio Dio come sono unto questa sera scusate scivolo della delunzione ha senso e allora dice in accordo alle professie fatte in precedenza a tuo riguardo perché tu conduca in virtù di essa il buon combattimento il buon combattimento Dio e lui è il signore degli eserciti il buon combattimento lo devo combattere per mezzo di quelle parole di fede dove Dio mi dice vai e io vado e dove io in autorità dico vieni e loro vengono avendo fede e buona coscienza buona coscienza la buona coscienza è fondamentale tu puoi avere fede e non buona coscienza certo certo la buona coscienza è quello che lo spirito santo utilizza per tenerti in riga per alcuni perché poiché alcuni avendola rigettata che cosa la buona coscienza hanno fatto un naufragio nella fede ascolta al diavolo non interessa che ti allontani da Dio a lui non interessa che tu ti allontani dalla fede per quello prima Timotio capitolo 4 versetto 1 dice ora lo spirito dice espressamente se lo spirito dice espressamente qualcosa presta attenzione negli ultimi tempi ossia adesso alcuni che cosa faranno appostateranno di che cosa della fede non da Dio della fede quando apposto quando naufrago o apposto o me è lontano dalla fede quando non ho buona coscienza la buona coscienza ti parla e dice dando ascolto a spiriti seduttori e dottrina da demoni le dottrine da demoni le dottrine da demoni gli insegnamenti da demoni dei demoni sono vengono utilizzati per mezzo di spiriti seduttori così come la sana dottrina che nasce dalla parola viene per mezzo dello spirito santo perché la parola è la spada dello spirito santo allo stesso modo le false dottrine sono utilizzate da spiriti seduttori sì ma da dove vengono queste false dottrine vuoi che te lo dica da dietro un pulpito e chi sono gli strumenti per l'epocrisia di uomini bugiardi marchiate nella propria coscienza vuol dire che perché qualcuno ti possa far appostattare della fede ha dovuto prima spegnere la coscienza quella coscienza che ti dice quello che stai predicando non viene da Dio quello che stai dicendo non viene da Dio ascolta la tua coscienza la tua coscienza è importantissima e poi ci sono falsi predicatori o predicatori zoppi o predicatori di libri che dicono hai la coscienza adesso ma non si utilizza più la coscienza non devo più ascoltare la coscienza e ci sono ti potrei dare dei nomi e alcuni rimarrebbe un po' sorpreso ma che sia lo spirito santo a fartelo vedere chi dici che la coscienza non serve ecco dove c'è uno spirito seduttore che sta parlando per mezzo di un ministro può un demone parlare per mezzo di un ministro beh non ha parlato Satana in persona per mezzo di Pietro quando Gesù Cristo ha raccontato il suo piano e Pietro gli dice che Dio non voli a questo non accadrà mai e Gesù si gira e dice Satana allontanati da me può un ministro può un demone parlare per mezzo di un ministro sì sì speriamo che si arreda quando quando parla quando non ascolti la coscienza il problema è quando la bruci quando viene marchiata quando viene bruciata che ormai non l'ascolti più quella coscienza e generalmente quello succede quando uno è un predicatore di libri o se predica il libro di un altro e quando devo tirare farina del mio sacco lì si vede lì si vede quello è il problema comunque chiusa la parentesi andiamo non perdiamoci con cose inutili Matteo capitolo 7 versetto 15 guardatevi dai falsi profetti chi sono i falsi profetti e come scoprirli perché tutti possiamo profetizzare ok i quali vengono a voi in veste di pecore non dice da ministri in veste da pecore e non in veste da pastore in veste da pecore vuol dire che ci sono dal momento che tutti possiamo profetizzare e lì dove in quei tutti ci sono quelli che ehi sono falsi profetti ora e può uno essere falso profeta senza saperlo e chi sono i falsi profetti da chi viene determinato che uno sia falso profeta o no te lo spiegherò in questa lezione ma dentro sono lupi rapaci voi li conoscerete dai loro frutti si raccogli uva delle spine o ficchi dei rovi così ogni albero buono produce frutti buono ma l'albero cattivo produce frutti cattivi un albero buono non può dare frutti cattivi e un albero cattivo non può dare frutti buoni ogni albero che non dà frutto è tagliato e gettato nel fuoco voi dunque le riconoscerete dai loro frutti ah ma io so che quel ministro no qual è il frutto qual è il frutto aspetta e adesso ti faccio vedere qualcosa perché molti pensano che il frutto è un miracolo il frutto è una profezia o il frutto è un demone che tu scacci guarda questo non chiunque mi dice signore signore entrerai al regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio che nei cieli molti mi diranno in quei giorni molti molti alcuni apposateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori di dottrina dei demoni ma molti molti diranno in quel giorno signore signore noi abbiamo profetizzato nel tuo nome profetizzato e dentro la profezia c'è consolazione perché la profezia è per esortazione edificazione e consolazione ossia guarigione dell'anima nel tuo nome abbiamo scacciato i demoni liberazione ui 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 e nel tuo nome abbiamo fatto molte opere potenti guarigione fisica quello che insegniamo noi nel nostro ministero e allora io richiederò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi dei miei voi tutti operatori di iniquità profetizzare non è frutto è manifestazione dello spirito scacciare i demoni non è frutto è un atto di fede nel suo nome e imporre le mani e guarire i malati non è frutto queste tre cose non è frutto mi ami Pietro pace le mie pecore e io vi darò pastori che vi pasceranno con conoscenza e sapienza la credenziale del ministro non è la guarigione fisica non è scacciare i demoni non è il profetizzare è la conoscenza hello per quello non perché io ti posso profetizzare scacciare un demone e guarirti vuol dire che io sono a posto con Dio se io amo Dio ti do da mangiare conoscenza hello ha senso ok carissimi prima Giovanni 4 1 non credete ad ogni spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo per quello come faccio a provarlo beh come come si mette la prova l'apostolo nella chiesa di Fessio in Apocalissi dice conosco la tua costanza eccetera eccetera so che hai messo la prova quelli che si dicono apostoli e le hai trovati bugiardi perché adesso c'è molto di moda l'apostolo ma come so se è apostolo o no quando viene trovato bugiardo e quando viene trovato bugiardo quando la predicano in linea con la parola di Dio ma per quello che ha bisogno di conoscenza hello prima Tessalonicesi 5.19 non spegnete lo spirito non disperzate le profezie provate ogni cosa ritenete il bene provate ogni cosa ritenete il bene vuol dire che quando hai conoscenza vengono a darmi una profezia che cosa devo fare io beh provala come alla luce della parola a fondamento biblico quello che mi stai dicendo o no hello se la metto alla luce della parola è quello che mi dice non 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 perché hai una segna una segnale si manifesta vuol dire che il profeta viene da Dio stai molto attento se un profeta viene dice Deuteronomio mi sfugge il capitolo del versicolo se viene un profeta con la parola che ti dà si adempi ma poi dice viene andiamo a servire agli idoli non crederli lo ho messo per metterti alla prova in poche parole se quello che lui ti dà una parola profetica che ti tocca il cuore ma poi ti dice qualcosa che va contro la parola di Dio quello non viene da Dio quello non profeta da Dio perché lo devo esaminare provate ogni cosa non disprezzare la profezia non giudicare perché il profeta è un uomo imperfetto ragazzi già ve l'ho detto tre milioni di volte uno solo è perfetto e quello sono io oh non mandare non mandare non mandare stavo scherzando signor uno solo è perfetto è quello è Dio non esiste la chiesa perfetta è come dice un predicatore famoso e se esistesse appena arrivi e tu non è più perfetta per quello sappi che tutti possiamo sbagliare tutti possiamo sbagliare anch'io posso sbagliare io quando predico dico ragazzi se tu trovi qualcosa che io dico che non è veramente biblico dimelo dimelo non parlarle a mie spalle vieni dimelo Marti guarda hai esposto qualcosa che forse non è proprio in linea con la parola di Dio e che pensi che farò che mi arrabbio ti ringrazio ti ringrazio gloria a Dio mi hai dato una correzione sono cresciuto ma se quello che io dico non me lo puoi non me lo puoi negare con la Bibbia allora chi deve cambiare devi essere tu e ma me lo hanno dato per tanti anni mi hanno detto che tanti anni sai quante cose ti hanno insegnato ci hanno insegnato in tanti anni e che non hanno fondamento biblico e che noi come come peccoroni siamo amén amén perché perché mi hanno dato una predica emotiva che non ha passato per mezzo della ragione sino che è andato diretto al cuore ci sono prediche emotive che vanno al cuore ti muovono le emozioni e tu te ne vai ah sì signore quando sono uscito dal primo film del Rocky voi le sorelle non capite ma noi maschi sì siamo usciti dal film mi spaccavo tutto che cosa guardi tu che cosa guardi eravamo tutti carichi saresti andato a botte con uno che che forse prima del film dici si vado con questo mi ammazza ma dopo il film che chi che chi sei tu emozioni e non usci la testa la vera la predica che cambia la tua vita è quella che arriva alla mente e poi tocca il tuo cuore come la predica di Pietro dopo la Pentecoste lui spiega e dice e con punti nel cuore dissero fratelli cosa dobbiamo fare ma non è una predica emotiva è una predica razionale che deve andare prima per la mente e poi toccare il tuo cuore se la predica emotiva e tocca solo il cuore quello non cambia la tua vita quello schiuma e poi quando ti trovi con la tempesta ti rendi conto allora ha senso ieri ho detto qualcosa di favoloso che il cinema mi ha fatto vedere di Caleb che dice Caleb in numeri in Giosuè 14 capitolo 14 dove lui Caleb va da Giosuè e dice tu sai quando Dio ci ha inviato a vedere la terra e quando io sono tornato ho detto quello che c'era nel mio cuore ehi ho detto vai a leggere ho detto quello che c'era nel mio cuore ma poi c'erano gli altri dieci che hanno scoraggiato il popolo anche loro hanno detto quello che era nel cuore qual era la differenza tra Caleb Giosuè e gli altri dieci che Caleb e Giosuè prima di andare a combattere avevano messo la fede nel loro cuore avevano seminato la parola per quello quando hanno dovuto parlare non è che si sono sforzati già avevano la fede perché? perché si sono preparati prima della tempesta hello il problema è quando tu non ti prepari e in mezzo alla tempesta vorresti dire andrà tutto bene ma sei mi sto morendo mi sto morendo perché? perché dirai quello che ci sarà nel cuore e se non hai seminato la fede che cosa uscirà della tua bocca? hello mio Dio quanti sono contenti di essere qui? questo 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 ti cambia la vita se io avrei avuto uno come me che mi avesse predicato quello che ti sto predicando adesso sai dove sarei oggi? sai dove sarei oggi? mio Dio ma Dio mi ha fatto pagare il prezzo per te per colpa tua pigro che non sei altro sto scherzando sto scherzando non sei tu e questo è per quelli che vedranno allo studio quello là che coppia le prediche della scuola ora troviamo la parola alla parola grazie Martin prego 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 allora Geremia 23 21 io non ho mandato quei profetti presta attenzione a questo io non ho mandato quei profetti ed essi sono corsi non ho parlato loro ma essi hanno profetizzati sono falsi profetti questi? sì 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 ma il falso profeta è dalla nascita? no tu scegli di essere un vero profeta o un falso ma se avessero assistito al mio consiglio allora avrebbero fatto udire le mie parole al mio popolo e così le avrebbero fatti allontanare dalla loro cattiva via e della malvagità delle loro azioni ok ok questo mi fa capire che che tu sia un vero profeta o che tu sia un falso profeta è determinato da te perché negli ultimi giorni ha detto Pietro ispirato da Gioele io spanderò il mio spiritù soprano i carni le mie fili e i miei fili profetizzaranno è un diritto per tutti dal Nuovo Testamento in poi tutti dobbiamo profetizzare non tutti sanno come ma tutti dobbiamo infatti prima corinzi 1431 leggilo insieme a me quanti? quanti? dillo forte tutti tu sei parte di tutti? certo che sei parte di tutti tutti infatti uno a uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati vuol dire che la profezia non stiamo parlando del dono di profezia attenzione il dono di profezia è per alcuni ma tutti possiamo profetizzare la fede per tutti ma il dono di fede è solo per alcuni tutti possiamo imporre le mani sui malati guarire i malati a chi creda nel mio nome quello è per tutti ma il dono di guarigioni è solo per alcuni tutti possiamo pregare in lingue a chi creda nel mio nome pregaranno parleranno in lingue ma il dono di lingue con interpretazione è solo per alcuni ti manca sapienza? chiedala a Dio che ti darà generosamente tutti abbiamo il diritto di avere sapienza ma poi c'è il dono di sapienza che è per alcuni per non confondere quello che è il dono con il diritto qui sta parlando del diritto di profetizzare ed è per tutti tu puoi dare una profezia dove la trovi? se avessi assistito al mio consiglio ossia se tu avessi entrato nel luogo segreto nel tuo spirito dove c'è la parola e adesso ti spiego il processo poiché noi conosciamo in parte e in parte profetiziamo ok ora la profezia è nascosta dentro un'immagine dentro una visione per quello la visione e la profezia sono due cose che vanno insieme e non ho il tempo qui di condividerlo c'è lo studio lì sul sito che adesso aggiorneremo tutto come profetizzare ma la profezia si nasconde dentro una visione il pregare in lingue questa è una profonda convinzione che ho e la porta per tutti i doni e i diritti soprattutto dei figli di Dio per quello quando tu preghi in lingue Dio ti darà una visione la profezia è Geremia 1 11 cosa vedi Geremia cosa vedi Geremia vedo un ramo di mandorlo hai visto bene perché io veglio sulla mia parola per mandarla adempimento ecco Dio che li sta facendo li sta insegnando a Geremia a profetizzare cosa vedi la profezia si nasconde dentro una visione per quello la visione e la profezia sono due cose che camminano insieme numeri 12 6 questo è quando Marta Miriam il fratello di Mosè Mormora Arone Mormora e l'Eterno condivise ascoltate ora le mie parole se tra di voi vi è un profeta io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione visione immagini perché il cervello funziona per mezzo di immagini come ben sapete i studenti parlo con lui in un sogno ma non così con il mio Sero Mosè che è fedele la mia casa con lui parlo faccia a faccia facendo vedere e non con detti oscuri ed Eli contempla la mia la mia sembianza ed Eli contempla la sembianza l'Eterno perché dunque avete perché dunque non avete temuto di parlare ma di parlare contro il mio servo contro il mio servo contro Mosè o contro Martin in questo caso paura allora tornando a noi dice e con detti oscuri sono immagini la profezia si nasconde dentro un'immagine ti do un esempio pratico andiamo per finire che già sono un quarto atti dieci dieci questo è una parola ricordate in parte conosciamo in parte profetizziamo abbiamo letto che chiedi sì che in parte che c'è una parte che ti dà Dio e un'altra parte che tu devi arrivare alla conclusione cosa vedi gli dice a Geremia cosa vedi Geremia vedo un ramo di mandole hai visto bene ed ecco l'interpretazione ok andiamo a vedere più di talentamente la dinamica atti capitolo dieci versetto dieci questo è Pietro che stava digiunando e dice Eve però fame e desiderava prendere cibo ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi vide il cielo aperto e scendere un oggetto simile a una gran tovalia che tenuta dai quattro angoli veniva calata a terra ora qui è interessante perché una volta che tu vedi la visione la devi analizzare per comprenderla che cosa era legato agli angoli beh c'erano dei fili che si legavano agli angoli delle veste e questo era per ricordare la parola di Dio in poche parole il dettaglio che lui vedeva agli angoli gli dice parola di Dio e alla luce della scrittura quello che riceve Pietro quando vede questa tovaglia e dice in essa c'erano ogni sorta di quadrupedi rettili della terra e uccelli del cielo e una voce gli disse alzati Pietro amazza e mangia amazza e mangia ma Pietro rispose no assolutamente signore perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e la voce parlò una seconda volta e disse le cose che io che Dio ha purificato non farle tu impure non dice non chiamarle impure non farle impure perché vita è morte nel potere della lingua questa questo questo avvene quante volte dillo forte quante tre volte perché tre volte quante volte aveva negato tre volte e come è finito dopo le tre volte che ha negato ha pianto amaramente per quello il tuo punto debil e il punto di forza di Dio ogni volta che Dio doveva dirgli qualcosa gli toccava il tre gli toccava il tre poi da un tratto l'oggetto fu ritirato in cielo mentre Pietro dentro di sé si domandava cosa significasse la visione per interpretare ti devi fare le domande per capire la parola parola profetica dentro l'immagine devi farti le domande come l'insegna a Geremia a profetizzare gli fa una domanda Geremia cosa vedi che cosa fa Pietro si pone le domande che cosa significa questo e con gli uomini mandati da Cornelio i quali avendo domandato della casa di Simone si fermano la porta avendo chiamato chiesero se Simone detto anche Pietro era già lì mentre Pietro stava ripensando alla visione cosa continuava a fare si faceva la domanda e ripensava la visione perché in parte profetizzo e in parte conosco conosciamo lo spirito dice ecco ecco che ecco che chi 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 tre uomini che ti cercano alzati dunque scendi va con loro senza fartene scrupolo perché perché sono dei cani perché sono pagani hello e quando arriva guarda questo conversando arriva alla casa di Cornelio e conversando con lui entrò e trovate molte persone lì riunite disse loro voi sapete come non sia licito a un giudeo di avere relazione con un straniero niente entrare a casa sua ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato no Pietro Dio non ti ha mostrato quello Dio ti ha mostrato un mantello con animali impuri lui ti ha detto uccidi mangia e tu hai detto no niente impuro è entrato in bocca mia e Dio ti ha detto non chiamare impuro quello che io ho purificato Dio non ti ha detto che nessun uomo deve essere ritenuto impuro per quello in parte profetizziamo in parte conosciamo vuol dire che la profezia parte te la da Dio ma l'altra parte lui vuole che tu ci arrivi a che cosa Dio sta cercando di dirti e quello è il miglior modo di insegnare a qualcuno non dirgli come stanno le cose se no fargli arrivare a quello che tu gli vuoi dire e quell'insegnanza quell'insegnamento arriva al tuo sulconscio quel modo di insegnare fa che la lezione arriva al tuo sulconscio per quello per natura quando ha parlato con Cornelio ha detto no Dio Dio riassumendo prega lingue prega lingue Dio mi va a dare un'immagine dentro dell'immagine e non ti dirà tutto tu devi arrivare a quello che Dio ti sta cercando di dire ma è importante che tu guardi bene quelle immagini nei dettagli nei dettagli Zaccaria vai a beh nel libro leggete la spiegazione in Zaccaria che Zaccaria vede 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 questo candelabro con due con due ramosceli quello che vede lui in realtà non erano dei ramosceli sul quale scorreva l'olio erano due ulivi e parlava dei due unti dell'apocalisse per quello quando lui dice che cosa sono due ramosceli non risponde Dio e poi dice che cosa sono quei due ulivi ah e allora viene l'interpretazione perché hai visto bene quando tu vedi male non c'è interpretazione per quello è importante che se tu hai un sogno o una visione quando preghi in lingue su qualcuno disegnala nei dettagli e poi fai lo stesso che ha fatto Pietro che cosa vuol dire questo e medita finché Dio ti dà la rivelazione domande interessante lo studio eh grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti